Era una di quelle giornate in cui tra un minuto nevica e c'è elettricità nell'aria. Puoi quasi sentirla, mi segui, e questa posta era lì, danzata con me, come una bambina che mi supplicasse di giocare, per un quindici minuti. E' stato il giorno in cui ho capito che c'era tutta un'intera vita dietro ogni cosa. E' un'incredibile forza benevole che voleva sapessi che non c'era motivo di avere paura. Mai. Vedere la sua vita è povera cosa, lo so. Ma mi aiuta a ricordare. Ho bisogno di ricordare. A volte c'è così tanta bellezza nel mondo che non riesco ad accendarla. e il mio cuore sta per frenare. Buonasera a tutti, buon Natale. A presto 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 A presto